Ah, è pronto il tè. Aspetta, cosa? È pronto il tè! Beh, è davvero... Salve, grande padrone! I cieli si sono aperti! I tuoi desideri verranno esauditi! Perché io sono Long Tzu! 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 Oh, è solo un plebeo. Beh, sarà facile. Ascolta, so cosa stai pensando. I miei occhi mi stanno ingannando. Un fantastico, superpotente, drago magico dei desideri. Può mai essere vero? La magia è vera? Oh sì, è vera. Bene, ora che l'abbiamo chiarito, passiamo alle cose importanti. Satri... Satri... Grazie a tutti.